Saper gestire e ottimizzare le immagini è una competenza fondamentale per chiunque ha un sito WordPress oppure anche per chi si occupa di inserire contenuti su un sito WordPress. In questo breve video voglio fornirti alcuni consigli pratici e alcuni strumenti per ottimizzare questo flusso di lavoro. Cominciamo però brevemente nel vedere cosa succede quando carichi un'immagine su un sito WordPress. Iniziamo con un esempio. Supponiamo di voler caricare un'immagine come questa che nella versione originale è grande, come vedi, 3465 pixel di larghezza per 2000 rotti in altezza. Chiudiamo e andiamo a caricarla sul nostro sito. Quando carichi un'immagine su WordPress nella cartella wp-content uploads relativa all'anno e al mese del caricamento vengono create in automatico diverse versioni di quella immagine. Come vedi questa è la dimensione originale, vedi che è grande, 2,1 mega, esattamente come l'originale che abbiamo caricato ma poi WordPress va a creare tutta una serie di altre immagini più piccole rispetto all'originale. Più è grande l'immagine originale caricata, maggiore il numero di versioni. Perché, ad esempio, quando tu carichi un'immagine più grande di 2560 pixel in larghezza o in altezza WordPress genera la versione col suffisso scaled che è larga, in questo caso, 2560 pixel. Infatti, se io vado ad aprirla, vedi che l'immagine è grande, 2560. Poi esiste la versione 2048 che sarebbe il doppio di questa, la versione da 1536 che è il doppio di questa e in più altre versioni. In automatico, WordPress crea tutte queste immagini. Questo perché, nella sezione impostazioni media di WordPress, vedi che di default sono impostate queste dimensioni miniatura, media e grande, che in pratica sono miniatura, media e grande, queste tre versioni, ma WordPress, in aggiunta, va a creare anche quello che ti ho detto, la medium large, la versione retina della medium large e la versione retina, ossia grande e il doppio, della large. E, inoltre, c'è questa versione in più, scaled, quella famosa grande 2560. Volendo, esistono diverse possibilità per evitare che WordPress carichi, anzi crei, tutte queste immagini aggiuntive. Se, ad esempio, noi qua andiamo a impostare 0 e 0 la larghezza massima e l'altezza massima di queste due dimensioni e andiamo a salvare, se torniamo qua in media, aggiungi nuovo e andiamo a caricare, questa volta scegliamo questa immagine della costa, Vedi che, in questo caso, WordPress va a creare comunque delle versioni, ma non mi crea la versione da 150 e neanche quella da 300, perché, con le impostazioni che abbiamo fatto qua, in impostazioni media, abbiamo disattivato questa funzione. Questo è un primo suggerimento che ti do, perché in molti casi, non sempre, ma in molti casi, queste due dimensioni, in pratica, non vengono nemmeno utilizzate dai temi. Quindi, presta attenzione, perché può darsi che, invece, il tuo tema le utilizzi. Se, per caso, non utilizza dimensioni così piccole, questo evita che WordPress vada a creare immagini aggiuntive inutilmente. Esistono, poi, anche dei plugin specifici, come questo, che ti permettono di disattivare la creazione di anche le altre versioni. Però, in questo video, ti voglio mostrare, invece, l'utilizzo di un plugin che permette anche, non solo di evitare che WordPress crei immagini aggiuntive, ma anche per fare in modo che vengano ottimizzate queste immagini, ossia quando le cariche vengano anche ottimizzate per mantenere la qualità, ma ridurre il peso di queste immagini. Il plugin che andremo a vedere si chiama IWWW Image Optimizer ed è disponibile sia in versione gratuita, sia è possibile attivare anche una funzionalità a pagamento per comprimere ulteriormente le immagini. Quindi, cominciamo a andare a attivare questo plugin. Andiamo nell'impostazione di questo plugin e lasciamo le cose così come stanno. Ti consiglio di lasciare attivata questa funzione, rimuovi i metadati, e qua in Resize Images lascia come larghezza massima 2560. Questo fa sì che il plugin vada a ridurre anche la dimensione massima salvata delle immagini in modo che venga ridimensionato anche l'originale. Una volta salvate le impostazioni, andiamo qua in Media, Aggiungi Nuovo, e andiamo a caricare una nuova versione delle immagini precedentemente caricate. Già che ci siamo, carichiamo anche una terza immagine. Clicchiamo su Apri e andiamo in Libreria a vedere cosa è successo. Una volta attivato il plugin e configurato, vedi che questo plugin ha ridotto, ha ottimizzato queste immagini in diverse percentuali. Tieni presente che non esiste una percentuale fissa per tutte le immagini. In base al tipo di immagini ci sono immagini che possono essere compresse un po' di più o altre un po' di meno. Infatti vedi che questa è stata ridotta del 58%, questa del 6,5%, questa del 33%. Quindi conta molto il numero di colori, la complessità di dettagli e tante altre caratteristiche per ogni immagine. Quindi non esiste una percentuale fissa di compressione uguale per tutte le immagini. Sempre in questa pagina è possibile apprezzare anche vedere i dettagli dei livelli di compressione. basta cliccare qua sull'icona del più e vedi che il file originale full è stato ridotto del 52%. Le varie miniature create ridotte del 4,9, 5,5, 5,5, eccetera, eccetera. Se vado a vedere quest'altro vedi che addirittura il file originale è stato ridotto del 76%. Di questo con la versione gratuita del plugin. Attivando l'abbonamento al servizio premium offerto da IWW Image Optimizer è possibile sfruttare funzionalità aggiuntive come ad esempio un miglior livello di compressione delle immagini. Vediamo un esempio. Tornando qua nelle impostazioni del plugin attiviamo la funzione a pagamento una volta attivata la versione a pagamento abbiamo accesso alla compress API che ci basta inserire qua la chiave che abbiamo ottenuto con il nostro abbonamento a pagamento salvare e così facendo abbiamo accesso alle funzionalità avanzate del plugin che ci consentono anche di definire il livello di compressione desiderato. Cliccando su questo link attivo la modalità avanzata del plugin e qua nella scheda local posso definire anche il livello di compressione desiderato. Il maggiore è il premium plus che è il livello di compressione maggiore anche se in alcuni casi può comportare una piccola spesso impercettibile perdita di qualità dell'immagine però attiviamo questo livello di ottimizzazione e salviamo. Andiamo a caricare nuovamente un file quindi andiamo in media aggiungi nuovo carichiamo il file city02 che è grande come gli altri due ma sarà assolutamente un nome diverso per capire meglio la differenza come puoi vedere la versione precedente 01 city con la versione gratuita del plug-in è stata compresa del 33,7% lo stesso file con la versione a pagamento del plug-in è stata compresa del 53% quindi un livello di compressione sensibilmente superiore vedi che anche le miniature sono state compresse molto di più rispetto alla versione gratuita del plug-in inoltre un'altra opzione messa a disposizione da questo plug-in tra l'altro opzione disponibile sia nella versione gratuita sia quella pagamento è quella che andando qua nella scheda ridimensiona è possibile scegliere di disattivare la creazione di diverse miniature quindi qualora tu non voglia creare tutte le versioni possibili delle varie immagini qua puoi anche disattivare la creazione che so della medium-large e di quest'altra versione se andiamo a salvare e a caricare un nuovo file vedi che in questo secondo esempio la versione gratuita del plug-in aveva compresso del 58% la versione a pagamento del 73,3 quindi molto di più inoltre ora che abbiamo disabilitato la creazione di alcuni formati di alcune miniature prima aveva creato 5 versioni del file ora solamente 3 infatti andando a vedere nella cartella sul nostro server vedi che nella versione precedente aveva creato anche la versione da 1536 e quella da 768 nel nuovo caricamento ha solo ottimizzato l'originale la versione da 2048 e quella da 1024 quindi ha evitato di creare anche altri file attraverso questo plug-in insomma puoi controllare sia l'ottimizzazione delle immagini ma anche evitare che WordPress crei inutilmente un sacco di versioni delle immagini che magari il tuo tema non utilizza nemmeno che sono che mi si mi 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 Grazie a tutti.